anche google ha voluto dedicare la giornata mondiale della terra alle api oggi è il 22 aprile 2020 ed è la cinquanta cinquantesima ma voi sapete cos'è la giornata della terra ed è la cinquantesima giornata mondiale oggi è il 22 aprile ed è la cinquantacinquesima se vi è piaciuto l'intero video potete mettere un bel mi piace e un pollice all'insù oppure se non vi è piaciuto un bel pollice all'insù non c'è problema un po' non si guardate perché io non aiutare le api mia minestra a me è una cosa svolta, e' aiutare le api io non mettono ah si è tutto il telefono quindi una brutta cosa questo ci sono ci sono ci sono ci sono ci sono